Per fare un deposito basterà cliccare sulla pratica, andare nella sezione documenti e caricare, premendo il tasto carica, tutti i documenti necessari al deposito, si possono caricare anche tutti insieme. In un deposito di iscrizione al ruolo non occorre caricare la nota di iscrizione perché viene generata in automatico da Netflix in cloud. Fatto questo bisogna cliccare su deposito telematico e poi su nuovo deposito. Qui se la schermata non evidenzia errori in rosso basterà premere sì ho verificato vai al deposito. Scegliere l'atto, il ruolo e l'oggetto della pratica. In questa sezione si può attestare l'avvenuto pagamento o l'esenzione del contributo unificato indicando anche la modalità di pagamento. indicare cliccandoci sopra la parte e la controparte della causa. Indicare sempre cliccandoci sopra l'avvocato di riferimento della parte. Come detto la nota iscrizione al ruolo è stata generata. Basterà ora selezionare i documenti che si possono mandare ricordandosi che uno va indicato come atto principale. Netflix in cloud ha anche l'attestazione di conformità automatica per i file che necessitano di questo atto. Premendo su firma documenti partirà la procedura di firma che prevede l'inserimento del codice PIN se si usa la chiavetta o del codice OTP se si sta usando la firma remota tramite smartphone. Cliccando su crea busta e spedisci il deposito sarà indirizzato verso la cancelleria di riferimento. L'iter del deposito può essere seguito dalla casella PEC oppure dal deposito stesso. Netflix in cloud aggiornerà tutte le informazioni ogni volta che arrivano dalla cancelleria.